E' così, vediamo come viene, vediamo come viene, e a moriremo a me. Vedi qualcosa Paolo? No, ti prendi così, grazie. Non ti parlo. Non ti preoccupo. Però che ti parlo. E' buono, vedi, mi hanno fatto perdere, e' buono che hanno avuto. Ma chiamato quello qui più me. E vabbè, quello ha segnato un po'. Non è tra nulla mamma.